Ah, finalmente la primavera, il sole, il caldo, gli uccellini che cinguettano, i fiorellini, le giornate più lunghe, il polline, l'allergia, 15 stati di vestiti perché non si sa come si si deve vestire, bella la primavera, ma noi anime metallare ce ne fotte sega e ci tocchiamo di nero uguale. In questo nuovo tutorial vi faccio vedere come realizzare questo look colorato abbastanza utilizzando la Naked Smoky di Urban Decay di cui ho fatto la review qualche giorno fa e vi lascio il link in uno di questi angoli, non mi ricordo mai qual è, ma vi lascio la schedina qui da qualche parte. Non è difficilissimo da realizzare, lo vedete durante il tutorial ed è molto molto semplice e il tutto è corredato da una base leggerissima fatta utilizzando un fondotinta minerale, vi lascio anche di quello la review sul blog, vi lascio il link nell'info box ovviamente e vi lascio direttamente al tutorial, noi ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!